Carissime amiche e carissime amici di Cielo TV Web, la cioccolata bianca di Peppe Ordile continua, in perterrida. Tutte le sere si effettuano a Montforte Marina. A Montforte Marina, anche in trasferta, dopo il giro delle botte dei Catone abbiamo una grande novità da Peppe Ordile. Da novembre a San Perniceto ora ci facciamo. Andiamo anche a San Perniceto, dopo il giro delle botte dei Catone di Montforte San Giorgio poi mettiamo la caglia di qualità, poi mettiamo il vino di ruggire, poi mettiamo i castagli di pelle. La cioccolata bianca, quindi... La caglia di composto è rossa. Sarai presente tutte le quattro domeniche. Tutte le quattro domeniche, partiamo dal 20 di novembre e arriveremo fino al 11 di dicembre. Ogni domenica un prodotto eccezionale nuovo di San Perniceto e non potrà mancare l'assaggio delle castagne di Peppe Ordile. Una domenica dedicata alle castagne. Quindi iniziamo con domenica la puma, la pede e le muccede e poi castagne e vino. Poi mettiamo la scocca e poi l'olio al novello. E Peppe Ordile con le sue squisitezze sarà presente in tutte le quattro domeniche. Come funziona? Lo vogliamo dire agli amici perché questa è una... Una novità. Una grande novità. Ci sarà l'assaggio che sarà gratuito? L'assaggio è gratuito. Soltanto al San Perniceto signore. Soltanto al San Perniceto. Ormai si vaga ma che l'aria che si respira. Ma al San Perniceto si provata così. L'assaggio non si fa. Ed è così. Quindi degustazione gratuita dei prodotti tipici locali di San Perniceto. E delle castagne di Peppe Ordile. Delle castagne la domenica dedicata. E poi ovviamente la domenica prima si cede anche le mele e anche dei prodotti fatti con delle mele. Ma le castagne non mancheranno mai. Le castagne non mancano mai. Le castagne non mancano mai. Le castagne non muore mai. Le castagne non muore mai. La cioccolata bianca. Vi aspettiamo, vi aspettiamo. Per la simpatia di Peppe Ordile. La nebbia agli sticolli. Va bene Peppe quindi cominciamo già la domenica dalle ore 10 a seguire. Dalle 10 del mattino fino a sera saremo lì. Vi aspettiamo. Numerosi. Ditela a tutti. A San Perniceto per l'autunno, i sapori e gli odori. Grazie Peppe Ordile. Grazie. Grazie a voi. Grazie a Diceto di voi. Prepariamoci per la nebbia. Di tutte e di più Peppe Ordile. Grazie a tutti. Grazie a tutti.